Questo sciopero richiamo al governo per tante rivendicazioni che interessano tutti i lavoratori di questo paese. La finanziaria che è alle porte è peggiorativa rispetto alle precedenti. Sono temi molto importanti, sanità, sicurezza, fiscalità, pensioni che interessano tutti i cittadini dell'Italia. Il mondo della scuola è anche coinvolto in questo sciopero, in queste manifestazioni. Siamo centinaia, siamo migliaia e le scuole sono chiuse. L'adesione è abbastanza alta, segno che all'interno degli istituti scolastici c'è un grande malcontente. Nello specifico noi rivendichiamo la risoluzione atavica del problema del precariato. Non è possibile che in questo paese ci sono oltre 200.000 precari che non assicurano la continuità didattica. In secco no al progetto di autonomia differenziata per una scuola statale e nazionale e per evitare la commistione tra scuola e mercato. Dobbiamo scongiurare il pericolo del dimensionamento. Aumentano gli alunni per classe e diminuiscono gli istituti scolastici. Si deve fare di più sulla sicurezza. La sicurezza è degli edifici scolastici. Qualche giorno fa a Casacalenda, a Campopasso, è crollata una palestra che è stata costruita con tutte le norme antisismiche. Le 40.000 istituzioni scolastiche di questo paese non sono a norma. Il 50% di questi istituti non hanno un certificato di staticità. E poi il fronte degli stipendi. Bisogna innalzare gli stipendi del personale non solo per equipararli alla media europea, ma per il ruolo fondamentale che il personale della scuola fa tutti i giorni all'interno delle scuole con dedizione e professionalità. Queste sono rivendicazioni importanti per il mondo della scuola che ci portano a una mara conclusione. Il tutto si va a ripercuotere sull'offerta formativa, il tutto si va a ripercuotere su quelle persone che non rappresentano solo il numero, che sono i nostri figli, i nostri alunni che rappresentano il futuro di questo paese. Allora, se questa non è una razione, il governo ci dimostra di passare ai fatti. Siamo qui per questo motivo, per rivendicare tutte queste motivazioni e soprattutto per protestare contro una politica che fa cassa e non investe.